buon ciao come state? vi siamo mancati? eccoci qua dal vostro amichevole nonno della rete a decine di giorni ma un po' di più no 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 ho capito altri 10 giorni dal super trani terza edizione ritorniamo in piazza della repubblica per chi non lo sa per chi gli è mancato la breaking news da parte la nato ci ha dato la possibilità di rifarla in piazza della repubblica a trani per due giorni sempre domenica trovate tutto su instagram su facebook super trani ci saranno tanti artisti tanta musica tanta musica tanti artisti e tante no vabbè l'ho già sentito si sa che è un casino e no vinto a te comunque non so che tempo che non parlo insieme a loro ho capito smetto questo sabato apriamo anche ciao caprile ciao ragazzi no caprile nel video ciao bambini astralcrime ci sta corona strane la nuova espansione di pokemon con il kit previso il kit previso ma infatti è uscito abbastanza strana 30 euro si gioca si vince e ci si diverte soprattutto l'ho già detto allora questo sabato è così la domenica ci sarà saremo aperti molto probabilmente e poi ci vediamo perché saremo chiusi il 78 piazza repubblica avremo il nostro stand ci saranno altri stand per la prima volta avremo l'amico fabio della tale del nerd di vicende ciao simona ci saranno i scacchi e ci saranno tante 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 cose vabbè poi ci vediamo domani perché questa è solo la prima parte della prima parte la prima parte del video finito il video andiamo è finito vuoi chiudere il video di 12 minuti presentazione allora la città del peccato io mi sono scorciato di veder sin city frank miller limited ah bene il film ma che cosa mi scorcia di vedere il video di vedere il video già sono oggi 12 minuti bellissimo prendetelo mi raccomando limited edition finisce subito numero uno numero due numero due numero uno è uno è il numero due che c'è me ne vedete eh mizzica ma la faccia della linte dei dici questo numero ah l'uomo senza paura l'omnibus di frank miller no questo è di bellis lo so lo so è di anex malibro poi questo è forse di frank ehi frank frank c'è scritto sopra no non c'è scritto non c'è nessuna parte però c'è di nuovo la replica di numero 300 si è il franco c'è batman deathblog bello salutiamo l'amico rocco della cifredi academy davanti poi ci precede sarai stibocciato a 23 ero chi mancava ma è impossibile scusami e come è possibile esterno stanno stanno nella stessa no no e ci stava perché mi sei che era un ragazzo con i siti di mare ma quella si era di qualcuno no no che voleva il 2 normale ah no di quelle sarebbero il 2 sarebbero il 1 giorgio non ho mancato in che senso è diverso e si è la varietà di me l'ho dovuta riordinare e no ma essere tutti è l'uno forse quello lavoro di raddico giorgio regolo frangelo cammino in sacco un altro 12 di mayaumiro climber sono leveling 4 di magro non manca il 12 il 3 e 3 e 4 di di climber manca si l'otto il 31 di berserk o agiasis buster silborrano silborrano lo facciamo è tutto per la via tanto sono tutti comunque arretrati vagabond berserk vabbè berserk forever insomnia initial di otto hoshino ko non ci sono le novità oggi ragazzi purtroppo forse al massimo l'amico di ghettano bungos redox attack on titan space family 72 volumi di vittorio ciao ciao vittorio dove voglio faccio il video non vi parlo più dragon ball super spettacolo black love spettacolo Giorgio la fusione bellissimo qua akira si diverte come un pazzo eh si vabbè lì c'è un po' l'ignoranza vabbè però ha fatto la stessa gag a tutti e due che cosa? si ha Gogeta che ha Gotenks ha fatto sta gag l'ha fatto di grosso, magro ha la stessa gag poco riciclato no Gogeta non ce l'ha no Gogeta si fa sono diventato sempre Gogeta non Vejecu quello con gli orecchini ah ma forse eh si è là non mi ricordo se è nel film non mi ricordo non c'è da niente no qual è innovativo è solo Vejecu è solo con gli orecchini gli orecchini potara perché lui non si metterà mai in quella posa capito? vabbè perché Junior ovviamente si è piccolo però Vejecu no e con gli orecchini si con i potara che figli ah volevo solo avvisarti che una volta che faremo la fusione non potremo più tornare in Italia ma lo dico adesso che bellissimo oh il 45 ah oggi dove arriva il 108 che io lo dico ah addio santissimo mamma mia si gioca domani è sicuro facciamo il torneo domani oggi siamo in 4 100 per l'1 30 per l'81 yugio 13 boom 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 è finito my rage toxin 4 si è ordinato si 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 mi ricordo my rage toxin naruto tanto dragobo super kaiju spettacolo dame dragobo super oggi dragobo fortissimo un po' di one piece che non manca mai bellissima cena spettacolo spettacolo fortissimo simpatico marucola mancano tutti gli altri come? erano tutti disponibili e vediamo che cosa esce migliezza manca ancora la dimostraia e poi cioè questi che stanno dentro sembra no poi c'è di Jim Lee Deathblood lo stesso di prima solo che prima era abbatto poi c'è uccidologia Deathblood i classici boom 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 devil del masterworks praticamente omnibus poi abbiamo un po' di numeri 6 poi abbiamo il nuovo di spider-man la ristampa dell'ultima caccia di kraven altri spider-man altre due repliche nel regno dei morti e poi a grande richiesta ho ordinato anche il figlio dei sogni oggi è questo domani ci vediamo sicuramente grazie a tutti per la visione ci vediamo al prossimo video bella voglia